E' una storia a lieto fine, quella di Salai Man siete riusciti infatti a trattenerlo, è stata decisiva la mobilitazione della città? Sicuramente, sicuramente la città ha risposto in maniera incredibile, voi della stampa siete stati eccezionali, avete cavalcato questa storia ma non perché era una storia ma perché era una qualcosa di reale. E poi un grazie grandissimo alla Croce Rossa che è stata esemplare in questa situazione, i volontari sono stati veramente splendidi e un grazie anche alla Questura che è stata, anche loro sono stati veramente incredibili. Hanno ragionato molto col cuore e hanno dato un'opportunità a questo ragazzo di poter coronare un sogno, sapendo che questi ragazzi vengono da tante disgrazie. Gli garantirete vitti alloggio e in pratica lui potrà così continuare anche a coltivare questo suo sogno che è il rugby? Sì, gli daremo vitti alloggio, lo manterremo. Abbiamo adottato, anziché fare un'adozione a distanza, abbiamo fatto un'adozione diretta. L'abbiamo fatto con il cuore, con il cuore degli amatori, con il cuore di noi rugbysti ma che sicuramente sarà un grande esempio per tutti gli altri sport. Abbiamo avuto la solidarietà della federazione italiana, c'è anche una lettera del presidente Malagò del CONI che sarà letta dopo in conferenza stampa da uno dei consiglieri nazionali, dal dottore Arancio che è anche presidente del comitato regionale. E che anche lui darà il saluto da parte del presidente Gavazzi, che anche loro hanno preso a cuore questa situazione. Quindi vedremo di dargli l'opportunità di farlo scendere in campo entro la fine dell'anno. A Messina una storia a lieto fine che incarna al meglio anche quello che è lo spirito di questo straordinario sport che è il rugby. Io al di là del rugby che è chiaramente lo sport che pratico, che ho praticato e di cui ho l'onore di presiedere il comitato regionale, penso sia una vittoria di tutto lo sport. Dello sport siciliano, della regione Sicilia che una volta di più ha dimostrato solidarietà verso i meno fortunati e ha permesso di dimostrare che lo sport unisce più delle divisioni che ci possono essere fra le culture. Cosa ha detto a questo ragazzo che ha coronato il suo sogno e adesso può pensare soltanto ad allenarsi dopo tante peripezie, tante vicende personali delicatissime? Credo che a lui non ci bisogna dire niente, piuttosto direi qualcosa ai nostri ragazzi, di prendere esempio del suo coraggio, della sua voglia di vivere, della sua voglia di rivalsa. Che lui possa rasmettere un po' del suo coraggio che ha avuto a salire su quella barca, affrontare il mare in momenti pericolosi, riscando anche la vita. Che possa rasmettere un po' di coraggio ai nostri e possa essere esempio per i nostri. Grazie per la visione!